cosa dobbiamo fare? come sei? la madonna aspetta mi faccio sentire adesso mi uccidi già lo so ma però sparando mi sa che qualcuno si è accorto di noi si si no io son già ricercato la vedi che tu hai? la sedia che flutto sopra di me no no persaglio a terra non ho sentito il rumore dell'elicottero che si è schiantato io si l'hai tirato giù tu? si sempre molto soft vabbè ci potevo vedere io ho non ho il cecchino al momento ho usato quello che avevo che succede se sparo le pompe di benzina? oh ok stai di vicino stai di vicino no 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 aspetta dai mappa tra l'altro siamo lontanissimi da quel punto e la madonna se siamo lontani ops migi cos'è qui? dove sei? sei morto che cazzo sei morto aspetta che ti sparo è esplorato la cisterna no figa ha danneggiato la macchina qua io volevo prendere sta macchina perchè non posso riuscarti da solo un secondo? peggio ok ho ho trovato un mezzo peggio dei bambini ma prendiamo un elicottero dobbiamo farci tutta la mappa ma il camioncine dobbiamo faccio guarda faccio guarda quanti chilometri dobbiamo farci aspetta mandami la missione ecco l'ho accettata 12 chilometri con quel furgoncino scusa rifammela perchè non ha a bonus raggiungo che si è mossa miguel ah ok non me l'ha segnata ma so dov'è comunque 12 chilometri secondo te arriviamo interi con quel furgoncino si parte l'unità da davanti a noi ecco no non fare niente stai caldo ok io non ho fatto nulla ma hanno visto loro porca puttana scappa tra l'altro siamo in montagna adesso che diamo di notte poi aia 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 mi sono fermato per un buon motivo mi ha troppo mi ha troppo andato l'aria non per sono sceso lì con la minigamp io non sono neanche sceso dal volo nel momento in cui ho messo fuori il braccio della portiera me l'hanno staccato proprio questo vino che si buttava a terra dal sito della macchina ok aia 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 perchè lì c'era una informazione da raccogliere che non avevo ancora preso sono segno e frega pure io non l'avevo preso aia poi di notte perchè di notte oh merda ma l'avevo colpito dovrebbe spostarsi ho visto il raggio azzurro perfettamente al centro dello schermo che? andare prima che salti fuori di nuovo fancula occhio fanculo mi ha preso ti ha preso? si l'ho buttato via occhio spostati spostati eeeh non ha fatto in tempo è lento è lento dietro di te dietro di te no ero dietro la dai mi ero nascosto vabbè e anche io mi ero nascosto figli di puttana veloce 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 in fondo nei bambù aspetta tanto l'hai visto preso nice con un numero 3 no 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 cioè come fa? l'hai fermato col cappellino e sappilo l'hai fermato col cappellino e sappilo ho fatto una cosa che sta diventando giorno sta cedendo sta diventando giorno sta cedendo nooo ero dietro all'albero ero dietro all'albero no no sono andato dalla parte sbagliata merda ero ha detto sono corsino avanti invece di correre indietro sta diventando giorno sta cedendo ma non possiamo chiamare i ribelli? ma che per cortesia michel dai così ce la sguariamo non lo so neanche se puoi comunque è bello non sono molto utili si no ma magari non dico per sparare ma magari se la prende con loro no? comunque si se la prende con loro si comunque se la prende con loro ho visto yeee boh boh si sono sparpagliati ha paura guardali tutti vicini all'albero ahahahahah di me devo cambiare albero via è bello che tutti intorno all'albero quale il mio nooo questo è il mio albero va bene? in effetti con tutti questi qua la visione termica non è utile è morto un altro no è morto si è morto eh si è morto rimangono qua eh non mollano un cazzo cioè l'ha brutalizzato a bruciapelo proprio che gliela ha sparata si è vero si è vero ma perchè sparisco i miei ribelli? nel senso preso? no era proprio home porca puttana ahah ahah mio no madonna ancora ancora ma capitanna granata hola potas si i ribelli sparano i ribelli sparano si beh ecco lo sapevo minchiai è sopra aspetta che compaia ok no non venire a salvarmi in un posto di merda lol l'albero si è figato dalla l'hai ucciso? bella si pressami no no fidati di non andare vicino per il momento ok ora se hai uno zoom goditi la visuale no merda ti sei avvicinato già troppo corri puoi correre? dove? corri lontano dall'area l'area bianca nella mappa ciao amici dimmelo prima e corri io ho iniziato a correre ma cazzo noi siamo andando verso il centro lontano dal predator e dimmelo prima no? eh figa cosa succede quando un predator viene sconfitto? dai 43 secondi che morte del cazzo co cosa mi dai calci? cosa credi che la prima volta io non sia morto perché sono andato vicino a fargli gli screenshot? punto io volevo andare lì eh ma infatti quando ti avvicini lui comincia ad attivare la sequenza ok? evidentemente quando sei venuto alle summit ti sei passato abbastanza vicino nooo 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 nooo